La Corte dei Conti ha messo in luce gravi inadempienze nella gestione amministrativa del Comune. Il sindaco Medeo Bottaro vuol far credere come in mancanza di sanzioni vada tutto bene. Ma non è così, l'inganno sta venendo a galla. E la denuncia è l'attacco sferrato dagli esponenti di Trani a capo nel corso di una conferenza stampa celebrata presso la sede del Movimento dopo quanto emerso nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale quando si è preso atto della pronuncia della Corte dei Conti. La situazione è grave. Loro ritengono che il fatto che il Comune non sia stato sanzionato sia un fatto positivo su cui festeggiare. Invece non è affatto così perché anche quando il Comune è stato sanzionato in passato, proprio quando Bottaro è diventato sindaco, prima di quelle sanzioni sono arrivate pronunce esattamente come quella di cui è stato preso atto in Consiglio Comunale l'altro giorno. Quindi la verità è che la situazione è molto grave e l'inganno con cui tentano di coprire tutto sta venendo a galla. Tante le criticità sollevate della Corte dei Conti su cinque consultivi. Il Consiglio Comunale quando ho fatto notare al sindaco che in queste prescrizioni c'erano anche anni che riguardavano la sua amministrazione il 2016 e il 2015, ovviamente lui come diceva Antonio prima, la maggior parte riguardano annualità precedenti, il 2015 siamo arrivati ad agosto, il 2016 che siamo dei geni, che eravamo dei geni, ma vi dico già subito che anche il 2017-2018 comunque i conti non sono stati risanati, ci stiamo lavorando, quindi vorrà essere rieletto, vorrà altri anni, infatti gli ho chiesto ma quanti anni vuole per sistemare i bilanci. Ad esempio nelle prescrizioni c'è l'assurda e la mancata attività di riscossione di tributi che è un problema che il Comune di Trani si porta da anni, quindi la macchia amministrativa come diceva prima Antonio non è stata per niente sistemata. E nel corso della conferenza stampa ad intervenire sul nodo Bollenti e Amio è stata la consigliera comunale Maria Grazia Cinquepalmi. Hanno approvato anche quest'anno un bilancio assolutamente irregolare perché non hanno fatto transitare anche quest'anno dal conto economico circa 4 milioni di euro che stanno prelevando illegittimamente dal fondo post gestione vincolato della discarica di Trani. Il Comune di Trani ha pagato per errore una fattura di 499 mila euro, l'amministratore unico ha detto che non ha nessuna intenzione di restituire questi soldi e quindi il risultato di bilancio anche quest'anno è falsato.